Quale momento migliore, se non nella vigilia della giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, per mostrare i passi avanti compiuti dal centro Ampat di Sondrio? Grazie al bando Pro Valtellina di 270.000 euro, la struttura del capoluogo guidata dalla neuropsichiatra Maria Luisa Combi ha avuto la possibilità di implementare un progetto specifico, volto al miglioramento della comunicazione per i bambini autistici. L'obiettivo è stato quello di aumentare la competenza del nostro centro rispetto a quella che si chiama la comunicazione aumentativa, cioè tutti quegli ausili visivi e tecnici, anche strumentali come gli strumenti ITEC, che possono facilitare e favorire la comunicazione sia in entrata dei bambini sia in uscita. Un altro aspetto fondamentale è stato poter inserire nella nostra equipa una logopedista, che potesse essere la competenza specifica rispetto alla comunicazione, potesse supportare con valutazione e trattamenti i bambini verbali, che necessitano comunque sempre di un supporto e di un aiuto di vario tipo, da un punto di vista fonologico, lessicale, dell'utilizzo della comunicazione e da un punto di vista pragmatico. E poi anche potesse approfondire l'utilizzo proprio del comunicatore che abbiamo potuto acquistare grazie al progetto Pro Valtellina e insegnarlo ai bambini. Al momento il centro ANFAS attivo dal 2007 segue 55 persone, prevalentemente i bambini, che hanno già avuto modo di poter usare nuovi strumenti, tra cui lo speciale tablet comunicatore blu, che attraverso le immagini abbinate ai suoni permette ai ragazzini di poter esprimere i loro bisogni nel modo più chiaro ed intuitivo per loro. Apparecchi che possono quindi migliorare notevolmente le capacità di apprendimento, ma purtroppo piuttosto costosi. Per questo, nella giornata di domani, l'associazione Nemastè di Mantello organizza un pomeriggio alternativo a cavallo, per sensibilizzare su questa tematica molto delicata e raccogliere fondi per l'acquisto di un nuovo tablet. Questo è solo un inizio di un percorso che permetterà al centro ANFAS di essere sempre più efficienti. Sì, questo lo speriamo, sempre. Soprattutto un futuro di miglioramento, sempre di formazione. Questa è una cosa che sentiamo moltissimo perché nel campo dell'autismo non ci si può fermare, così come ovviamente anche in tanti altri campi. I bisogni dei nostri bambini sono tanti e noi ci sentiamo il dovere di migliorare sempre nella possibilità di offrire a loro e alle loro famiglie come dire, degli strumenti migliori, delle professionalità migliori per seguire nel corso della loro vita e migliorare quindi la qualità della loro vita. Senza comunicazione è difficile sicuramente, questa è una cosa fondamentale. Grazie a tutti.